Anche se fosse facile, io non te lo direi, non si può scendere, ormai. Sono i dettagli, quelli che contano, sono i momenti che segnano, ognuno può essere quello che vuole, sai, non si può perdere quel che non hai. Hai mai pensato a quello che fai? Hai mai guardato a quello che sei?